Suono per caso, perché questi organi sono stati restaurati intorno agli anni Ottanta e sono suonati dai più grandi musicisti che questo tipo di materia conosca nel mondo, soprattutto il maestro Tamminga. Anche il maestro Tagliavini, Luigi Ferdinando, che li ha restaurati e che purtroppo è morto ieri e quindi è un momento di lutto per la basilica e per la musica bolognese, è stato il titolare di questi organi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.